Più che un viaggio in bicicletta, quello proposto lungo la ciclovia della Food Valley nella Bassa Parmense in Emilia Romagna è un percorso culinario da gustare senza tuttavia accomodarsi a tavola. Nella Food Valley Bike, infatti lungo un cammino di circa 80 km, verrete sedotti dai salumi d'eccellenza, dalla pasta, dai formaggi e potrete davvero abbinare ogni prodotto locale al posto in cui deciderete di fare tappa. Il viaggio nel paese dei Balocchi comincia da Parma, proprio dal percorso della pasta. Un colpo di pedale e salirete sul palco dello storico Teatro Reggio, quindi via verso il Parco Ducale e poi in direzione nord-est, verso Sorbolo. Qui potrete gustare il piatto tipico della tradizione italiana e il piatto di pasta, frutto della combinazione degli ingredienti che nascono rigogliosi quali ad esempio grano, pomodoro o parmigiano reggiano, scegliete voi. Poi via verso Mezzani e più ad ovest in direzione Colorno, senza mai allontanarsi troppo dal fiume Po. Colorno poi è la patria del Tortel Dolls, i cui ingredienti principali sono la mostarda, il vin cotto e il pan grattato, volano di un made in Italy che in tempi normali dovrebbe letteralmente calamitare qui migliaia di turisti provenienti da ogni dove.